allora lanci tu che hai già fatto una bella diretta domenica parlando di mercati robe varie che ci dici un po di questo mercato cosa ne pensi beh cosa dire innanzitutto il fatto di avere comunque retto i 20k che vabbè non sono stati retti però nel senso poi siamo abbastanza subito tornati lì in zona è comunque un segnale abbastanza positivo quello sicuramente diciamo che la problematica secondo me è sempre la stessa ovvero che in questo momento i retail non stanno facendo il mercato ma lo stanno facendo gli istituzionali gli istituzionali si comportano esattamente nella stessa maniera indipendentemente dal mercato in cui sono e di conseguenza la situazione è questa qua ecco quando c'è panico diciamo nei mercati chiaramente in questo momento ecco purtroppo siamo correlati agli altri mercati non perché poi ogni tanto c'è qualche influencer che dice siamo correlati a questo siamo correlati a quell'altro siamo correlati a quell'altro ancora siamo un po correlati a tutto ma semplicemente perché chi sta trainando il mercato sono sempre le stesse persone quindi ovviamente che si comportano in una certa mania di la verità che sei tu a trascinare il mercato si però t'avevo detto di stare zitto e poi vengono a cercare la ballena di più o meno ma la ballena si perché ho messo un po di chili solo per quello mica tanto per altro tra l'altro noi facendo queste direte non è che vi diciamo di stare tranquilli e sereni come se nulla fosse vi diciamo di fare le vostre analisi e magari chi lo sa di approfittare di alcune occasioni anche se c'è qualcuno che dice che potrebbe ancora scendere i biconi di conseguenza tutto il mercato ancora magari verso 16-17k ma siete tranquilli a vedersi dei muri quelli grossi mircos e sereno sei tranquillo ma diciamo che intorno proprio ai 16-17k cominciano a vedersi dei muri particolarmente grossi no esatto sono i muri del pianto i muri del pianto esattamente i muri che poi magicamente spariranno e ricompariranno a quota 14k probabilmente qualora il prezzo scendesse quindi anche lì gli istituzionali e chi riempie gli order book fanno sempre quello che è il loro lavoro si diciamo anche scusa mi vai vai ma figurati semplicemente teniamo d'occhio la situazione perché da quando siamo a meno 70 per cento rispetto all'old time i si svegliano anche coloro che si chiamano contrarian investors quindi tutti coloro che vanno a scommettere al contrario proprio quando c'è il cosiddetto sangue che scorre per le strade allora quello è il momento giusto per acquistare secondo loro e secondo un certo tipo di strategia di filosofia la cosiddetta contrarian quando comincia a vedersi un meno 70 dall'old time i allora loro cominciano a concentrarsi sul grafico e di lì a poco di solito succede qualcosa ora siamo in un mercato tutto particolare siamo in un periodo tutto particolare e i pianeti potrebbero allinearsi in qualsiasi direzione e dobbiamo farvi semplicemente dire a ponderarci a capire quale potrebbe essere la nostra mossa sia in una situazione che in un'altra volevo farvi notare che non so se avete notato anche voi che andando a cercare un po' di notizie sui vari siti di informazione del mondo critico in questo periodo è veramente complicato trovare news positive a conferma del fatto che quando mentre fino a qualche mese fa eravamo nel mercato che stava salendo trovavamo tutte delle belle notizie vi ricordate quante belle trasmissioni abbiamo fatto con lo sai che è cripto e trovavamo malangate di notizie positive in questo periodo sembrano ci siano solo notizie negative anche nel mondo delle cristo e sto cercando di trovare delle cose che siano quanto meno più più oggettive possibile mi hanno colpito per esempio due due cose la prima è che un colosso come city bank ha aperto la possibilità di gestire la custodia di criptovalute per enti istituzionali che vuol dire perché il problema della custodia è un problema reale soprattutto perché devi investire tanti soldi e quindi il fatto che le banche o comunque una banca importante come city group cominci a rendere disponibile questa cosa un campanellino di allarme positivo me lo fa suonare come i cani di Pavlov e l'altra cosa sentivo parlare di sentivo questa notizia su di ydx di ydx di ydx che vuole creare questa sua block chain su base cronos credo o su base cosmos non mi ricordo cronos o cosmos non mi ricordo cosmos ecco perché vuole arrivare a decentralizzare totalmente l'exchange in un momento di caccia alle streghe in un momento di attenzione ai regolamenti alle nuove regolamentazioni e di attacco in qualche modo alla privacy delle persone perché diciamo che quello che è successo ultimamente con terra e con altre situazioni vedi celsius come sempre risveglia i regolatori e gli amici del presidente del mondo le versioni più cattive e più attente e stiamo leggendo di notizie in tal senso un po' tutto il mondo da singapore a l'india ovunque avere la possibilità finalmente di avere degli exchange decentralizzati funzionanti magari anche su bitcoin su rette Ethereum o altre reti diciamo di finanza decentralizzata come abbiamo visto Solana, Flamingo e altro la Flamingo su Neo e quanto è altro tutti i cloni di Ethereum che abbiamo visto sarebbe interessante avere anche un exchange decentralizzato e funzionante anche in bitcoin cosa ne pensi Mirko? exchange decentralizzato e funzionante anche in bitcoin cioè già abbiamo il prototipo bitcoin se proprio vuoi esiste una delle ultime declinazioni che è il lightning network però il sistema bitcoin vuole restare distaccato da quella che si chiama DeFi lato Ethereum sono due maniere di interpretare la parola DeFi se vogliamo è proprio un concetto che possiamo applicare sia all'una che all'altra bitcoin il problema secondo me sarebbe anche allora facciamo un DEX su non so Cardano piuttosto che su Ethereum piuttosto che su Erron eccetera 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 esistono già però qual è lì il vantaggio? faccio un DEX e io posso scambiare la moneta Erron per dire con delle stablecoin che magari sono su Erron in questo caso no però vabbè è giusto per fare l'esempio e con token che sono sostanzialmente in quel caso si va i GLD 20 ok? per fare un esempio nel caso di bitcoin questa cosa chiaramente non la puoi fare anche perché con cosa lo scambio bitcoin? non esistono stablecoin su blockchain bitcoin e non esistono token su rete bitcoin anche se so che Mirko potrebbe avere qualcosa da ridire però il dato di fatto è anche quello beh ti stai inventando piano piano una cosa che hanno già inventato e si chiama Torchain esatto stai proprio avendo quel tipo di esigenza lì progetto che a te Mirko piace molto uh da morire inizialmente mi spaventava e lì ridiamo veramente almeno tipo due o tre settimane di fila vabbè ma torniamo torniamo alle stablecoin perché sennò non ne usciamo più di questi discorsi parlando di stablecoin è vero che come ci ha detto il nostro amico Master 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 per me è Master Master Clem Master Clem ok Master già mi piace il tema no cosa state pensando che le dite voi io non sto pensando niente no io mi vedo hai studiato mastering bitcoin ammetti masterclass come masterclass o masterchef allora è vero che c'è la riduzione di Tether ma al tempo stesso c'è la crescita di USDC come stablecoin come volumi quindi un tema di questa sera è che USDC sta diventando preponderante all'interno del mondo delle stable giusto? assolutamente hai mica visto il coin market cup ultimamente che nelle prime cinque monete tiene due stablecoin era una cosa che non è che si vedeva tutti i giorni anzi è proprio questo il primo periodo in assoluto in cui abbiamo il lusso di vedere una scena di questo genere tre nelle prime sei esattamente le prime quattro anche bitcoin anche bitcoin è una stablecoin come diceva Ciccio Gamer ci arriviamo dopo è la migliore delle stablecoin se vogliamo però dobbiamo prima farsi un ragionamento sopra andare a vedere la tua comprata a 41 esatto innanzitutto Tether è la più vecchia di tutte le stablecoin nata nel 2014 e invece USDC ha quattro anni in meno di quattro anni più giovane io vi assicuro che c'è stato un periodo in cui quando pensavo alla supply di USDC pensavo sempre che era un decimo rispetto a quella di Tether guarda qua invece come si sono andate evolvendo le cose dai 66 miliardi che adesso è la capitalizzazione totale di USD abbiamo 55 miliardi no USDT perché USD è andata USDT chiedo scusa USD ha fatto una brutta fine se ne stava qua poco più in basso avete qualche valgo ricordo se volete se volete abbiamo anche la possibilità di andare a consultare il calendario un anno fa questo era l'aspetto di CoinMarketCap e infatti vediamo alla data di oggi precisamente che il nostro USDT stava a 61 miliardi quindi insomma ha avuto una salita da allora ma anche una discesa infatti adesso si dice che abbia perso un 20% in supply se andiamo a vedere USDC stava soltanto a 26 miliardi l'anno scorso e quindi andava a capitalizzare meno della metà a cosa è dovuta questa crescita secondo te al fatto che il nuovo arrivato si fa strada nel suo mercato c'è da dire che USDT con il fatto di essere il primo arrivato eccetera si è fatto adottare parecchio dalla zona eurasiatica mi passi il termine quel tipo di zona è quella che più ha accolto l'utilizzo di USDT e che forse tuttora lo sta utilizzando di più senza tanti forse dal punto di vista invece di USDC vediamo una moneta che strizza l'occhio più al mercato americano infatti è sviluppata da Circle e Coinbase e ha dovuto soltanto andare a scontare il fatto di essere in ritardo di 4 anni rispetto a quella che aveva occupato tutto l'ambiente e soprattutto quello euroasiatico era un ambiente particolarmente importante soprattutto ai primi tempi del nostro mercato cripto qui arriviamo anche a vedere due anni fa qui parliamo del 23 di luglio del 2020 Tether sempre terza in classifica però con una market cap che non supera i 10 miliardi quindi era qualcosa di molto più piccolo rispetto ad ora 8 volte di meno e se andiamo a cercare USDC lo troviamo diciottesimo con un miliardo e poco più insomma era una piccolina che nel 2020 erano in pochi che ci avrebbero scommesso già all'epoca dicevano che sì sarebbe stata una stablecoin di nicchia per quello che era il mercato americano certo che evidentemente qualcuno ha preferito se non abbandonare Tether per andare verso gli USDC fare un 50-50 cioè o comunque andare a porzionare il rischio quindi pensi che sia diversificazione pensi che sia solo una diversificazione quindi riduzione del rischio o un'opera di marketing o di marketing di USDC migliore allora vedi anche dal punto di vista sì sicuramente c'è questione marketing che rientra tantissimo in quella che è soprattutto la narrativa americana se vogliamo però appunto tutto questo tipo di sviluppo qua ti porta in diverse direzioni a seconda di quale che sia la narrativa che vai a seguire se la guardi dal punto di vista dell'americana un conto se la guardi dal punto di vista di un asiatico o un altro e un europeo potrebbe trovarsi a mezza via appunto diversificando vai a non dare fiducia soltanto a un ente a un provider di stablecoin e quindi già appunto sai anche tu che andare a centralizzare la fiducia dal punto di vista anche solo del detenere il dollaro va porzionata tenere il dollaro digitale in vita al porzionamento anche quella e quindi avere più di una squadra virtuosa nell'ambito delle stablecoin è sicuramente utile a tanti almeno per restare con il cuoricino in pace dai o date o scusami dai o date per definitivamente morte le altri tipi di stablecoin o per esempio la collaterializzata che recentemente ha avuto un leggero depeg come MIM o algoritmiche ma gli esperimenti ne faranno in continuazione sempre il fatto è che la volatilità di quella che noi oggi chiamiamo stablecoin potrebbe aumentare e andare a mettere sempre più a rischio il peg quindi si potrebbe andare a considerare quelle monete che sono poco volatili ma non dal punto di vista del prezzo ma dal punto di vista della supply che è quello è il problema infatti si dice che nell'ultimo anno e mezzo i dollari circolanti siano circa il doppio rispetto a quelli di un anno e mezzo fa parli dei dollari della federal parlo di tutti i dollari circolanti immediatamente spendibili sì quelli della federal esattamente quella della federal reserve così no comunque vabbè adesso a parte la situazione anche di mercato no come secondo voi adesso vi faccio questa domanda come secondo voi vabbè diciamo che tendenzialmente a breve possiamo dire due anni al massimo dovrebbero uscire le CBDC ok quantomeno negli Stati Uniti poi secondo me in Europa siamo molto più indietro le situazioni macroeconomiche potrebbero far velocizzare la questione però in Europa siamo sempre più deficienti di tutti quindi vabbè però negli Stati Uniti la CBDC andrà teoricamente prima ok anche perché devono comunque correre dietro alla CBDC cinese che è già funzionante da un anno e mezzo e abbondante anche e poi secondo me c'è sempre la preoccupazione e magari sono solo pazzo io che lo penso solo io però se i russi facessero un rubro digitale a modo di CBDC a quel punto lì gli americani sarebbero proprio l'ultima ruota del carro comunque ha combattuto dal punto di vista diciamo culturale politico un sacco di anni contro Russia e contro Cina e se si fanno tra virgolette bagnare il naso da entrambi non sarà proprio una cosa simpatica a meno di vedere però tranasciamo anche la questione della regolamentazione che quindi con l'arrivo delle CBDC potrebbe esserci comunque una regolamentazione lato stable coin ma la mia domanda invece in realtà è secondo voi le CBDC ok integrate magari in alcuni servizi e protocolli potrebbero realmente andare a sostituire tutte le stable coin o parte di esse quantomeno diciamo quelle tradizionali quindi USDC USDT eccetera BUSD secondo voi potrebbero sostituirle loro utilizzo per vedere qual è la blockchain su cui vanno a funzionare perché se la risposta è no non importa dove andranno a funzionare o dove non andranno a funzionare nel senso nel senso intendevo dire noi abbiamo adesso in questo momento l'One digitale che funziona presumo su una blockchain privata della banca centrale cinese se la CBDC americana sarà altrettanto direi che siamo un pieno grande fratello e non so quanti vorranno utilizzare quel tipo di stable coin CBDC non so e non credo che mi verrà mai in mente agli Stati Uniti di fare una CBDC decentralizzata quindi utilizzando una no no perché vorrebbe dire perdere totalmente il controllo di emissione ti dico questa cosa perché allora Paypal negli Stati Uniti già da un bel po' di tempo dà l'opportunità ai clienti di poter detenere Bitcoin ok a quel punto lì il mio viaggio mentale è se Paypal avesse un servizio integrato per poter gestire la CBDC cosa che concettualmente potrebbe accadere perché se io voglio togliere la carta la carta moneta e sostituirla con 0101 ok fondamentalmente circola solo quella quindi Paypal a un certo punto dovrà integrarsi in questo sistema e nel mio viaggio mentale il discorso è ok se si integra Paypal e su Paypal io posso comprare Bitcoin a quel punto lì se io vendo Bitcoin su Paypal posso comprare una stable coin scusatemi posso comprare la CBDC e quindi in quel caso lì non mi servirebbe dire vabbè ok piglio il Bitcoin lo sposto sul mio wallet poi lo sposto sull'exchange e poi faccio la conversione con USDT USDC o BUSD o quello che dia mi ne voglio cioè era quello il concetto invece la domanda è da dove ti possono frenare la CBDC ti vuole vuole avere la possibilità di frenarti perché tu sei appena diventato illegale cosa ti ha appena reso illegale potrebbe essere da decidere se per esempio avere gli occhi azzurri diventasse illegale voi due non avreste più la possibilità di andare a muovere i vostri conti è un riflesso di questo perché la mia legge dice così e se avete la CBDC non ne uscite fuori da questa regola se invece avete una stable coin o qualcosa che si può utilizzare in maniera decentralizzata allora avete forse un ancora di salvezza o un salvagente sì quello sicuro però nel senso per questa questione dei servizi secondo me potrebbe ovviamente la mia era una provocazione è palese che non scompareranno le stable coin quantomeno nell'immediato a meno che non succederà qualcosa di grave o quando la stable coin vera come dicevi tu all'inizio Mirko sarà bitcoin quindi quando la mia unità di misura sarà bitcoin se mai succederà sarà bitcoin a quel punto lì non saranno assolutamente le stable coin precisamente o Satoshi o Satoshi esatto beh forse già cominciare a ragionare in questi termini è veramente prematuro probabilmente durante la nostra esistenza non arriveremo a vedere situazioni del genere però sicuramente questa è una generazione di transizione da un sistema monetario fiat a un sistema monetario harder qualcosa di migliore ma io sono così convinto che non lo vedremo mai magari saremo con le dentiere e quant'altro però per me passa un po' meno tempo di quello che possiamo immaginare perché il mondo si è velocizzato il tempo si sta riducendo cioè la sensazione la percezione si sta riducendo fino a un po' di anni fa per esempio quello che accadeva negli Stati Uniti arrivava in Europa con un ritardo di dieci anni internet ha completamente stravolto questa dimensione del tempo e dello spazio prima siamo passati a cinque anni di ritardo poi a tre anni di ritardo adesso direi forse un anno parliamo degli Stati Uniti ma direi anche Cina anzi forse Cina è ancora più avanti negli Stati Uniti rispetto a alcune cose come non so cosa dici tu Luca ci sono alcune cose sì però ecco di fatto la liquidità della società e la velocità con cui la società diventa più liquida è aumentata insomma la tecnologia ha aumentato di molto la velocità in cui i cambiamenti e le trasformazioni avvengono non ha mai rallentato a dirti la verità non ha mai rallentato e continua a crescere come velocità cioè è sempre più esponenziale quindi il senso e il concetto del tempo che noi abbiamo adesso non è quello che avremo tra un anno Sony Ericsson quindi torniamo adesso basta qualche cosa che faccia scattare questa mass adoption che non è sicuramente solo l'ETF spot perché quella è solo una giustificazione per il mondo tradizionale finanziale esatto qualcosa che agevoli velocissimamente come acquisto l'utilizzo di bitcoin può anche essere che il primo passo fatto l'anno scorso da El Salvador possa in questo anno questi prossimi due o tre anni far esplodere il numero di paesi che possono adottare questa roba chi lo sa possa ispirare qualcuno soprattutto laddove eventualmente bitcoin salisse El Salvador dimostrerebbe in questa maniera di smettere di essere dipendente dal Fondo Monetario Internazionale certo ma poi nel senso ok El Salvador allora sentivo ieri Benetazzo che diceva staterelli del cazzo cioè innanzitutto bisogna comunque avere rispetto di tutti gli stati no è perché nel senso comprendiamolo il punto di vista è una staterello del cazzo però cosa vuol dire il discorso è che è vero che c'è uno staterello piccolo ok però andiamo a considerare che cosa cosa ha portato no il fatto di non conta il fatto che sia uno stato piccolo poco significante conta il principio esatto voglio arrivare esattamente a quello loro erano indipendenti totalmente dall'economia delle politiche monetarie americane ok quindi ad un certo punto ho detto ok basta avete rotto il cazzo perché facendo così io continuo a perdere cioè perdo di mio e poi in più perdo anche a causa tua qua se la prima nazione che potrebbe fare una cosa di questo tipo cioè gigantesca e occidentale ok potrebbe essere tranquillamente la Turchia quanto cazzo sta perdendo il potere cioè il valore della lira turca cioè ha una roba mostruosa perché noi ci ricordiamo il meno 99% della dell'Argentina che comunque è un paese gigantesco ha chiaramente una potenza economica rilevante però nel senso non è un paese evoluto adesso dal punto di vista industriale ed economico intendo no perché tu vai in Argentina con 5 euro ti compri una stecca di siga cioè c'è un problema ok c'è un problema grosso in tutto questo Luca perché Sud America e tutta l'Africa non sono paesi poveri sono pieni di risorse naturali e di ricchezza che sono a completo servizio e al gioco della nostra economia chiamiamola occidentale e soprattutto agli Stati Uniti cioè fa comodo avere queste nazioni e l'Africa compresa sotto no? è certo quindi nel momento in cui uno Stato indipendentemente da quello che fa come prodotto interno lordo eccetera eccetera che fino a ieri anzi ancora tutt'oggi utilizza come moneta corrente il dollaro americano non ha più neanche la sua moneta e quindi è totalmente succube del dollaro americano come valuta del fondo monetario internazionale per i prestiti e con quelle riserve di valore comincia a dimostrare che non ha più bisogno di quella roba lì ma è immediata la cosa di imitazione immediata non è che sono andati per caso 44 paesi era proprio dove volevo arrivare io qualche paese che l'anno prossimo gli telefonano gli dicono bomber come è andata l'anno scorso non è che immagini se il Brasile o l'Argentina è lavoroso è lavoroso vuol dire che escono dal gioco americano compreso il vestito Panama lì il problema sono anche la grossa percentuale di malavita che c'è in questi paesi anche quello potrebbe veicolare o in un modo o nell'altro secondo me continuiamo ricordiamoci che bitcoin ricordiamo una volta per tutto è tracciato su tutto il blockchain quindi fai le tue indagini da polizia che già fai e fai a rintracciare che devi rintracciare con il polywallet piantiamola sono più facili se vuoi sono più facili gliel'ho detto anche alla Gabanelli quando ha fatto il suo bel il bel video sul Corriere un po' di tempo fa che diceva bitcoin è la moneta della malavita gliel'ho scritto e lei ha ripreso questa cosa in diretta il giorno dopo con dei tizi mi dicono che invece si può tracciare tutto e si cazzo puoi tracciare tutto tant'è che gli exchange stessi hanno dei servizi di alert che si stanno dire subito se i bitcoin sono puliti sono sporchi sono legali illegali quindi che cazzo stiamo parlando hai insegnato qualcosa di nuovo alla Gabanelli questo ti rende onore ci scrive ma è vero il suo numero e vi sentite la sera e allora il suo numero e vi sentite la sera per questioni per qualsiasi per qualsiasi la sera Grazie a tutti